osservando l'immagine originale che si trova a sinistra del monitor potreste restare perplessi perché uno si dovrebbe chiedere se questo è ciò che il fotografo ha visto scattando questa foto a Capitol Reef che è una delle famose formazioni rocciose in uno dei grandi canyon degli Stati Uniti perché avrebbe dovuto scattarla non è particolarmente interessante non è plastica non è emozionante ma la colpa non è del fotografo è quello che succede quando si punta una fotocamera anche molto sofisticata verso un oggetto che è piatto e senza contrasto il primo step quindi per migliorare questa immagine sarebbe quello di utilizzare una tecnica che gli dia maggiore contrasto e passiamo così al risultato che vedete sulla destra a sinistra ora avete l'immagine che era destra prima cioè quella più contrastata il contrasto c'è ma manca saturazione i colori sono molto tiepidi diciamo così e di conseguenza diamo saturazione e otteniamo il risultato di destra l'immagine saturata però a sinistra ha probabilmente ancora bisogno di una certa variazione cromatica e otteniamo il risultato a destra e se siamo soddisfatti con la variazione cromatica possiamo applicare una maschera di contrasto per enfatizzare il dettaglio apparente la realtà è che siamo passati dall'originale molto piatto a questo risultato che forse per certi versi è anche eccessivo ma che vi fa vedere quante informazioni nascoste ci sono nella fotografia perché dovete tenere presente che la manipolazione che ho fatto sull'immagine per ottenere il risultato di destra non ha coinvolto nessun tipo di intervento manuale tutto è stato ottenuto sfruttando ciò che la fotografia contiene già di conseguenza anche se questo risultato è particolarmente impressionante e potremmo magari voler spingere come si dice un pochino meno sono pronto a difendere che quello che si vede a destra in questo momento è assai più vicino a quello che avrebbe visto il fotografo nel momento in cui è stata scattata la foto di quanto non si veda a sinistra ovvero quello che ho fatto è stato andare a simulare anche se in maniera piuttosto aggressiva ciò che l'occhio umano tra virgolette farebbe alla rappresentazione di questa scena rispetto a una fotocamera andiamo a vedere nella prossima lezione come si sviluppa questo argomento grazie a tutti